Torna a Napoli dal 18 al 20 ottobre il consueto appuntamento con Orienta Sud, il Salone delle Opportunità che sostiene i giovani nella scelta del proprio futuro formativo ed occupazionale. Diverse le novità di questa dodicesima edizione, che martedì prossimo a Città della Scienza si inaugura con un convegno sul tema scuola, università, ricerca, innovazione e lavoro, il Paese riparte. Nella tre giorni sono infatti previsti attività di formazione per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro. Uno spazio sarà dedicato alle opportunità di studio e occupazione all'estero ed il 19 ottobre sarà possibile riscoprire l'importanza dei mestieri con l'esibizione di artigiani esperti che forniranno preziosi consigli su come avviare un'impresa. Il logo e il claim scelto Napoli riparte dai giovani vuole dare un segnale forte per la ricostruzione del tessuto sociale di questo territorio. Abbiamo bisogno di coinvolgere i ragazzi in un grande progetto per arricchirli, per dargli degli strumenti perché possano diventare degli ottimi cittadini, degli ottimi professionisti e quindi fare del bene a se stessi e al territorio. Tra le iniziative in programma al Salone delle Opportunità anche percorsi informativi rivolti ai giovani e alle loro famiglie sulla scelta del percorso di studi e colloqui individuali con educatori e psicologi per avvicinarsi in maniera decisa e incisiva al mercato occupazionale.